Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale potete prima dire a Ale di ascoltarmi perchè avremo per prima cosa giocheremo a Tasty Challenge che noi dovremo assaggiare delle caramelle e vedremo se saranno buone perchè poi avremo quello di coccodrillo e altre cose quindi prima assaggeremo quello di coccodrillo perchè Ale non sa mai aspettare non è mai paziente, non mi ascolta mai si che ascolta non lo dico non so cosa che ho comunque assaggeremo i coccodrilli e vedremo se saranno buoni Ale aspetta non è neanche paziente e ecco qua, assaggeremo e io dirò si o no e tu si io dico si 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 io dico si 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 come c'è? troppo buono? è troppo buono proviamo con il prossimo con questo tipo di caramelle non è che mi piacciono anche io non mi piacciono questo tipo di caramelle però se sono anche io all'aranza, alla fragola si va bene geniale non è quello vabbè cominciamo no è dai l'odore non mi convince ok assaggiamo qua qua tu Ale dici di si o no? si 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 io dico di mangia poi abbiamo i ultimi che sono i cioccolatini di pasta che sono super buoni quindi peschiamo io ho preso questa rosa io ho la lilla non so perché dobbiamo metterli nel freezer dovete metterli nel freezer perché se no si sciolgono non saranno buoni intanto voglio un attimo vedere cosa c'è dentro ok il mio non ha il cioccolato bianco anche tu probabilmente sarà uguale al mio no e io dico di già si o no sono duri però sono buonissimi tu Ale dici si o no? si o no? no quindi sono duri io dico di si perché quando sono anche sciolti sono buoni ciao ciao Ciao!